C'è Dio un... Allora per il fatto del sito, un ragazzo che lo fa? C'è la... non lo so... Allora fermi. Allora, cioè prima cosa dobbiamo... Vabbò, prima cosa dobbiamo cosa? Cioè dobbiamo... Allora sì, tolto. Allora è fermo, lo spesso ho trovato. Ehm... ci dobbiamo... Cioè... No, a te la fermo, allora basta, la fermo, la vera. Cioè dobbiamo entrare le regole avvista fino a questo, non riesco. Con Dio questo, non mi sono capire, non mi sono capito. Allora vedi! Allora vedi! Allora vedi, mi sa fa male, mi sa fa male! Cioè gli stavanti no... tranquillo, ti fa guarda, salti in là se devi fare i tuppi è pesante è pesante, diventa pesante questo